e ben a tutti patafans qui è mister patrack 217 siamo sul primo episodio del giro spiegazione su formula 2015 siamo a melbourne adesso vi faccio vedere anche il setup allora come vedete appunto ve lo sto facendo vedere non vi sto a parlare dei dettagli perchè ci metto troppo tempo ne approfitto subito per salutare una persona che me l'ha chiesto ovvero carlitos gameplay 2 non so perchè c'è il 2 me lo spiegherà ma va bene adesso lanciamoci con il giro partiamo subito dal aspetta qual'era questa siamo subito alle ultime curve vabbè adesso mi metto a pensare in video perchè staccata assassina ma con un altro discorso e adesso arriviamo all'ultima curva in quarta marcia apriamo subito il drs mettiamo miscela grassa e passiamo il traguardo iniziamo subito il giro stacchiamo la prima curva a 110 metri la prendiamo in quarta marcia andiamo sul secondo rettino del drs per arrivare in curva 3 da prendere in staccando a 120 metri prendendola in seconda marcia andiamo subito per la curva 4 da prendere in sempre terza marcia puoi prendere questa curva qua che è la curva 5 in pieno arriviamo verso curva 8 da prendere in terza marcia forse stringendo un pochino di più e adesso siamo verso curva 10 o 11 se non mi ricordo si stacca a 100 metri e si prende in terza marcia stando molto attenti al tappetino perchè quando è rigoroso si può rischiare parecchio andiamo su questa curva veloce per poi andare verso curva 13 adesso sto facendo casino con i numeri lo so da prendere in quinta marcia e adesso arriviamo a questa serie di curve da prendere in terza marcia e prendere poi la seconda in quarta o quinta arriviamo alla penultima curva forse è da stringere un pochino di più da prendere in seconda marcia per poi andare all'ultima curva da prendere in quarta marcia e aprire il drs andiamo a finire il nostro giro in 1.27.234 o 232 non lo so non mi ricordo ragazzi spero che il giro di spiegazione vi sia piaciuto se è così cliccate su mi piace e commentate un saluto a tutti da MrPatrack217 ciao 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 Grazie per la visione!